E' uno che ti guarda, me guarda, me guarda! Ciao Memoliani, bentornati o benvenuti nel mio regno. Se è la prima volta che capiti da queste parti nel regno della psicopatica Memole, ti invito a iscriverti con campanella attiva, di lasciarmi un feedback positivo di supporto, un like, e se ti va, seguimi sui social Facebook e Instagram, trovi tutti i nomini qui sopra, giù sotto in info box i link cliccabili e cominciamo subito questo video. Oggi parliamo delle 7 fobie più strane al mondo. Sì raga, di fobie strane nel mondo ce ne stanno a bizzeffe, però non è che potevo fare un video che durava 50 minuti, no? Quindi oggi ne trattiamo 7. Se poi questa idea vi piace, mi raccomando, scrivetemelo giù sotto in un commento che ne farò altre. Ok, le metto in ordine sparso, non in ordine di importanza. Partiamo con panofobia. La panofobia è la paura di avere paura. Sì ragazzi, avete capito bene? Non è razionale. Difatti si chiama anche paura non specifica, proprio perché appunto non è specificata da qualcosa, non c'è paura di qualcosa, c'è paura di tutto, dell'area, del mondo. Dio, guarda, oddio mi dice, oddio mi fa, che ansia, oddio che ansia, oddio. La panofobia, chi soffre di panofobia c'ha paura anche dell'ansia stessa? Oddio che ansia. Ah, questa ragazzi è carina, non che quella di prima non lo fosse, ma questa è proprio carina. Questa si chiama chietafobia, penso di averlo pronunciato bene. In soldonia è la paura dei capelli. Ebbene sì. Certe volte basta soltanto il pensiero dei capelli, altre volte invece bisogna, hanno bisogno di un contatto fisico, che cazzarola ne so, stai col tuo ragazzo, sfiori coi capelli e quello scappa al bagno. Cioè, ma non perché puzzui, è perché hai toccato con i capelli. Ma raga, questa è assurda, veramente. Insomma, altre volte ci occorre il pensiero, altre volte basta che, insomma, una persona ti tocca con i capelli, ma anche i peli dei cagli fanno questa cosa, eh. A chi c'ha sta chietofobia, scusate, vado un attimo a guardare perché chietofobia a me viene tanto bene, anche per i peli da animali è la stessa cosa. Raga, preparatevi che appena ho letto questa, mi sono messa a rire per un quarto d'ora, perché ho pensato a quello che vi sto appena di ometafobia e la paura degli occhi. E qui da me mi è venuto in mente uno che ti guarda, mi guarda, mi guarda, schizzato, paranoico, capito? Io morta, vabbè, forse dito solo io, però a me mi ha fatto morire da ridere. Ah, raga, questa arevoleggia, eh, questa arevoleggia perché è lunga, eh. Preparatevi perché se ne soffre qualcuno adesso me se sente male e me stira dietro al telefono, al computer, al televisore o a dato cazzo, non è stata guarda sto video. Ippo poto monsto se squire da lio copia. Penso di averlo detto giusto. E raga, come potete penso intuire, è la paura delle parole lunghe. Mi sono appena resa conto che ce l'ho pure io, mi è venuta un'ansia, ma un'ansia, un'angoscia, basta. Belonefobia. È la paura degli aghi, degli spilli, delle siringhe, agli ameprude qua, dei coltelli, delle lame, insomma, vabbè, avete capito, è la paura di tutti questi tipi di oggetti. Ora, io mi rendo conto che magari un po' tutti, no, insomma, credo quasi tutti abbiamo paura di farci un prelievo del sangue, insomma, magari ci fa un po' schifo, però addirittura avere proprio la fobia è tosta, ragazzi, perché che fate? Ogni volta che prendete il cortello per tagliaci, cipolla, vi mettete a piangere, no, per la cipolla, ma perché quello c'è il cortello in mano. Eppure questa la devo leggere sul taccuino. Arachibuitrofobia. Che ansia, ragà, mi è venuta un'angoscia queste parole lunghe. Praticamente in soldoni è la paura del burro d'arachidi. Sì, ho detto giusto, è la paura del burro d'arachidi. Avete capito bene? Sì, sì, è quella. Cioè, praticamente, c'hanno paura che gli si attacca il burro d'arachidi sul palato, capito? Voi è nata a leccar il cucchiarino e quello che si attacca sul palato e quelli vanno in paranoiatura. No, ma voi vi immaginate da offrire un toast, magari, no, a uno che ne soffre? Ciao, vuoi un toast al burro d'arachidi? E se ne va, cioè... Vabbè, morta. Questa ne soffrono i vampiri. Alliumfobia è la paura, appunto, dell'aglio. Quindi, Twilight, spostate. E niente, ragazzi, questo piccolo video termina qui. Spero che vi abbia intrattenuti, strappate un sorriso. Conoscevate questo tipo di fobie? Ne volete altri di video sulle fobie? Ragazzi, c'ho un cassetto pieno di fobie. Quando volete, o snoggio, o qualcuna, va a dirlo fuori. Comunque, fatemi sapere giù sotto con un commento e, mi raccomando, iscrivetevi al canale con campanella attiva e seguitemi su social Facebook e Instagram. Bisogna un chiasco. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.